che fa là? eh voglio che mi gira, voglio che mi gira l'angola l'angola mi tira la barca non hai risignato adesso è 4 eh hai paura no? portalo via ah ce l'hai qua 12 per me ribatti eeeh pittore siamo andati a pitturare qualche barca eeeh pittatore non è giusto eeeh pittare eeeh pittare eeeh pittare eeeh pittare eeeh pittare ... ... ... ... ... ...